Gentili telespettatori, buona giornata. Continuiamo con questa grottesca e gravissima storia. Oggi Emiliano, in stile lo smemorato, non si ricorda, ma forse De Caro non c'era. Forse De Caro non c'era. Allora, ormai abbiamo questa storia i connotati del grottesco, della farsa e ci dimostra quello che succede e da sempre succede in Italia. Politica e criminalità si conoscono, anche molto bene. Vi ricordate in passato la trattativa Stato-mafia? Vuol dire che lo Stato si metteva d'accordo con la mafia. I vertici della mafia si mettevano d'accordo con i vertici dello Stato. Però la trattativa Stato-mafia non era solo, poi qualcuno dice che non è mai esistita, la trattativa Stato-mafia non era solo un accordo tra la Stato e la criminalità organizzata per coesistere, per non pestarsi i piedi. Ma non era solo ai massimi livelli, era anche a livello locale, era anche a livello locale. La politica della città conosceva perfettamente la criminalità e coesistevano, si mettevano d'accordo. Tu non dai fastidio a me, io non do fastidio a te. Questa è una mia introduzione preambolo. E poi arriviamo a quello che dice Emiliano sul palco di Bari, che per difendere il sindaco De Caro racconta a migliaia di persone che quando questo De Caro era un suo assistente, quando lui era sindaco di Bari, era stato minacciato, allora lui l'aveva portato a casa della sorella del boss dicendole, te lo affido, lo hanno minacciato, se ha bisogno di qualcosa, acqua o qualcosa, tu dagli una mano, te lo affido. Quindi l'ex, oggi governatore, ma ex sindaco di Bari, il suo assessore è minacciato, l'assessore non va dalla polizia o dai carabinieri, ma va dal sindaco, e il sindaco poi dice, perché va dal sindaco? Perché va dal sindaco? Perché poi il sindaco lo porta dalla sorella del boss dicendole, lo hanno minacciato, te lo affido, ha bisogno di lavorare. Che cos'è questo? È una trattativa a livello locale, non è la trattativa stato-mafia, ma è una trattativa a livello locale, dove il sindaco va dalla sorella del boss a dire, guarda, dobbiamo fare dei lavori, c'è il pericolo, mettiamo la zona ZTL, così anche i bambini non correranno pericolo di essere investiti, il mio assessore è stato minacciato, te lo affido, guarda che deve lavorare, eccetera, eccetera. È una piccola trattativa tra il sindaco e la sorella del boss del centro di Bari. Poi, quando lui stesso ha raccontato questa cosa che aveva già raccontato in televisione, ha provocato lo sconcerto, ma probabilmente lui non ha le capacità per rendersi conto della gravità delle cose che dice, oppure non è che non abbia la capacità, probabilmente per lui queste cose sono normali, però se lo vai a raccontare a qualcuno che vive a Bolzano, tira fuori gli occhi e ti dice come la normalità, ecco, la normalità che vive lui, dove porta l'assessore a casa della sorella del boss, magari non succede in provincia di Bolzano, ecco, quindi la sua normalità non è la normalità, quindi lui ingenuamente ha raccontato quello che reputa ovvio che se hai un problema non vai dalla polizia, ma vai dalla sorella del boss. Non stupitevi voi che vivete magari in zone dove queste cose... Eh, in tante zone d'Italia, ha funzionato così, funziona e funzionerà così in futuro. Così è, se vi pare, così è la vita. Alla fine Emiliano cosa ha fatto di male? Ha raccontato come funzionano le cose, che a lui sembrano così normali, così ovvie, che se uno viene minacciato tu vai dalla sorella del boss e dici ma come l'avete minacciato, poverino, deve lavorare. Eh, mica vai dalla polizia a fare la denuncia. Adesso poi questo decaro aveva detto ma secondo me Emiliano non si ricorda bene, io non c'ero. Io non sono andato a casa di nessuna sorella del boss perché adesso il centrodestra chiede intanto le loro dimissioni che sembrerebbero così ovvie ma che non avverranno mai in una repubblica delle banane come questa e poi il centrodestra dice dovranno essere auditi, ascoltati dalla commissione antimafia perché le dichiarazioni di questo tipo sono gravissime e dimostrano una convivenza, una connivenza tra esponenti delle istituzioni e non possiamo neanche dire la criminalità perché queste due donne, questa donna questa sorella del boss è incensurata ma allora mi chiedo perché decaro porta l'assessore da un'incensurata dicendole te le ho affido lo hanno minacciato è chiaro, no? Pertanto adesso, dopo che decaro ha detto forse Emiliano non si ricorda bene ma io non c'ero dopo che Emiliano sta storia l'ha raccontato più di una volta adesso Emiliano lo stesso che non si rende conto di quello che dice o gli sembra talmente normale dice forse non c'era decaro forse non c'era forse non c'era casa della sorella del boss diciamo che i due stanno cercando di arrampicarsi sugli specchi ma io dico il lavoro del politico è parlare questi sono i politici che abbiamo in Italia che prima parlano e dopo pensano è l'antitesi dell'ABC del politico cioè il corso da politico principiante ti dice ricordati che tu non alzi i sacchi di cemento non costruisci muri non lavori in fabbrica ma il tuo lavoro è la parola è parlare quindi prima di dire una parola conta fino a dieci e aspetta rifletti su quello che stai per dire sulle conseguenze che potranno portare per questa ragione per questa ragione ancora non mi capacito come in Italia abbiamo politici che prima parlano e poi pensano a quello che hanno detto vuol dire che la classe politica in Italia non è una classe di veri politici sono delle persone messe lì con l'etichetta politico che hanno proprio messo l'etichetta perché con l'etichetta adesiva sono un politico però poi di politico non hanno assolutamente nulla perché come vi dicevo l'ABC della politica ti dice prima di parlare pensa arrivederci a tutti e grazie